Sono stazionari al momento le condizioni del bambino di 13 anni ricoverato il 25 dicembre all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un attacco di meningite. Nonostante ci sia ancora tanta preoccupazione, il peggio, almeno per adesso, sembrerebbe essere passato dopo che in un primo momento i medici si erano riservati nell'esprimere la prognosi che è stata poi sciolta nelle ultime ore. Il giovane lo scorso 19 dicembre si era recato in Marocco con la famiglia partecipando durante il soggiorno ad un'escursione con noleggio di un'auto van alla presenza di una guida turistica all'igiene pubblica che ha condotto l'indagine epidemiologica ancora in corso è stato riferito che all'escursione oltre alla guida dell'autista erano presenti solamente i componenti della famiglia e poche ore dopo da rientro in Italia in data 23 dicembre ecco arrivare la grande paura prima il delirio e poi la febbre altissima che hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. I familiari del bambino sono già stati sottoposti a profilassi da parte dei sanitari del Meyer mentre per quanto riguarda i passeggeri dei due voli il caso è già stato inserito nelle specifiche piattaforme web ed i sanitari si stanno invece occupando di raggiungere gli altri contatti. Il paziente dunque come detto in precedenza sembrerebbe fortunatamente fuori pericolo. Dalle analisi inoltre è emerso che si tratta di meningite di tipo B per la quale il vaccino è stato introdotto gratuitamente a partire dai nati nel 2014 mentre il giovane risulta essere vaccinato per il meningococco C per il quale la vaccinazione è gratuita e garantita fino al compimento dei 20 anni.